Fusaro, ti voglio chiedere una cosa molto semplicemente, vittime e strumenti di guerra, ha detto Banfi in questo toccante servizio, anche in questo caso la scelta deriva, l'ha detto anche esplicitamente mi sembra Trump, ha detto Beautiful Babies, strumenti o vittime di questa guerra in Siria? Sono entrambe le cose, è evidente a vedere quelle immagini ciò che disse Dostoievski, cioè la sofferenza dei bambini è la prova dell'esistenza del male morale nel mondo, quindi sono sicuramente vittime e insieme strumenti di questa guerra, lasciatemi però dire che siamo nel cuore di una nuova guerra mondiale, la cui data di Genesi si colloca nel 1989, è la guerra mondiale che gli Stati Uniti d'America, a fautori della mondializzazione economica, culturale e con l'abbattimento connesso di tutta la pluralità degli Stati e delle culture e delle alterità, sta conducendo, abbattendo uno dopo l'altro tutti gli Stati non allineati, utilizzando sempre l'espediente di utilizzare il nemico come nuovo Hitler, deve esserci sempre un nuovo Hitler di modo che poi ci possa essere il bombardamento, la nuova Hiroshima legittimata. Era Hitler Saddam, era Hitler Milosevic e adesso diventa Hitler Assad, quindi il bombardamento criminale imperialistico diventa un gesto di male necessario, quasi terapeutico, una sorta di imperialismo etico. Ebbene, avere contezza del fatto che non si può più credere al netto di ciò che è stato nelle menzogne del fatto che Assad utilizza le armi di distruzione di massa, le armi chimiche, sappiamo che sono sempre puntualmente le scuse che utilizza il lupo contro l'agnello, sono le scuse utilizzate per poter aggredire e far passare un'aggressione imperialistica come se fosse qualcosa di legittimato. ce lo insegna la storia, abbiamo visto in Iraq non c'era nessuna arma di distruzione di massa, abbiamo visto che in Siria ancora qualche anno fa non c'era nulla, ma Milton certo che dice di no perché è la gran cassa del pensiero unico dell'America che parla facciamo la tua identità di voi. Facciamo parlare questo discoroto di un marxista quanto vuole. Vai, vai, vai. Posso? Sì. No, volevo dire che nessuno, a cominciare da me, mette in dubbio che Washington, il governo del mio paese, ha fatto errori grossissimi da Vietnam al Medio Oriente al comportamento terribile di Obama e Hillary Clinton nella primavera arabe in Libia e nessuno dubbi, anzi io scrivo nel mio nuovo libro, questione dell'America, proprio che gli americani hanno reso Hitler tutte queste cose, su quello possiamo andarli d'accordo, che Hitler o il concetto di nemico è quello che Trump cerca sempre. Ma andiamo oltre, siamo al momento di equilibri internazionali che in 30 secondi si può riassumere così, Putin spera di fare accordi con Trump, Trump spera di fare accordi con Putin, Trump ha un scandalo a Washington per la collusione, l'indagine sulle eventuali collusioni fra Putin e la sua campagna contro Clinton, cambia l'argomento con questo attacco, l'attacco è simbolico, non un gran che, un piccolo attacco e manda un messaggio alla Cina anche su Nord Corea, quindi il problema per me non è che negare che noi americani abbiamo condotto malissimo la politica estera per decenni, sono d'accordo, anzi, il problema per me è che abbiamo, non dico squilibrato, abbiamo una persona non del tutto sempre stabile, un presidente che ha come capo della strategia lo svalvolato Steve Bannon accanto a lui e quindi abbiamo una Molotov cocktail di confusione nella Casa Bianca che può solo portare male per l'Europa e il mondo. Michele Sin che ne pensi, che ne pensi di questa? Poi è l'ultima battuta a Fusaro, però prima voglio sentire Michele Sin di questa... Beh, cosa penso? Penso che si rischia, non è un piccolo intervento, è un intervento significativo, è un chiaro cambio di politica, oggi il segretario di Stato prima di andare a Mosca ha detto Putin è probabilmente responsabile, i russi sapevano, significa creare una situazione pericolosissima. Ma quello che ha detto è che Putin non ha eliminato le armi chimiche che Putin doveva contenere a Zai. Io penso che pensare che Putin non abbia eliminato le armi chimiche sia una follia, visto che erano le Nazioni Unite che controllavano la distruzione delle armi chimiche, avvenute su una nave americana peraltro, signori, ricordiamoci questo. Ma si sa che c'è un gioco qui fra America e Russia in cui America fa la voce grossa, cerca di poi arrivare ad un accordo. Signori, con chi vogliamo dialogare, con chi vogliamo negoziare in Siria se vogliamo raggiungere la soluzione politica? Secondo te con chi si deve negoziare? Puoi dialogare solamente con Bashar Assad, perché altri non ce ne sono. Bashar Assad è responsabile per 450.000 morti in sei anni, ti rendi conto di questo? Avete un nome di un leader politico, volete negoziare con Jabhat al-Nusra, con Al-Qaeda? No, no, anzi, è una situazione impossibile. Volete negoziare con quelli che hanno distrutto le torri gemelle? Grazie a Putin. I ribelli che gli americani appoggiano possono essere, chissà, un po' di Al-Qaeda, un po' di quello, non si sa. Quindi sono d'accordo che la situazione è terribile. Io penso che l'unico con cui si può negoziare una soluzione politica per il problema della Siria sia Bashar Assad, perché lui ha il potere in questo momento. Ti offro un'altra possibilità. Che succede, ti chiedo, cosa succederebbe se alla fine della fiera gli americani fanno un accordo con Putin in cui Putin molla Assad in cambio per togliere le sanzioni, perché alla fine c'è un apparista che vuole fare dei deals, dei accordi. Sai perché non mollerà mai Putin? Per ego, per faccia. Per una ragione molto semplice, perché in Siria c'è Tartus, che è l'unica e ultima base navale che i russi hanno nel Mediterraneo. Bene. Fusano, un'ultima battuta Fusano, veloce. E voglio capire, in questo dilemma... Ma è evidente che non c'è la... Il nemico del nemico. Il dilemma si risolve presto. Eh? No, Assad sta eroicamente resistendo rispetto ad aggressioni già stabilite nel 2013. È uno stato che resiste eroicamente alla mondializzazione imperialista guidata in maniera criminale dagli Stati Uniti d'America, che stanno bombardando dall'89 ad oggi uccidendo donne e bambini senza tregua. Assad sta resistendo, come anche altri Stati in giro per il mondo, come Cuba, la Bolivia. Bisogna che l'America si metta bene in testa che non può essere la signora assoluta del mondo. C'è il diritto di esistere al plurale. C'è il diritto di esistere al plurale per i popoli, le culture e gli Stati non allineati che l'America vorrebbe abbattere a suon di bombardamenti etici, interventismi umanitari e bombe intelligenti. Questa è la verità. Purtroppo è un argomento che varrebbe la pena approfondire un po' di più, ma avremo posizioni molto diverse. Comunque la cosa è molto chiara. Dice che non si può trattare con Assad, il peggio che abbiamo sul terreno è peggiore di Assad. Diego Fusaro dice che resistono alla mondializzazione. dopo la pubblicità con Giovanni...